Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Lì potrai rifornirti di armi e scorte, anche se invaso dagli infetti. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Datti una mossa, su, devi entrare a B. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Datti una mossa, su, devi entrare a B. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Datti una mossa, su, devi entrare a Buckingham Palace. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.